Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, video dedicato al nostro amato Castello e nello specifico parliamo oggi di quello che dovrebbe, utilizziamo il condizionale perché in questi casi è d'obbligo, dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Cagliari finalmente, oserei dire, perché insomma questa scelta ce l'aspettavamo già per la settimana scorsa tant'è che comunque il profilo sembrerebbe essere stato individuato, scelto e l'accordo sembrerebbe essere stato raggiunto Fabio Liverani è praticamente destinato a diventare il prossimo allenatore del Cagliari contratto annuale con opzione per il secondo, credo, immagino, anche in virtù dei risultati sportivi che conseguirà con il Cagliari quindi direi che sul piano contrattuale ci possiamo stare assolutamente, mi sembra una scelta anche abbastanza sensata ragazzi, allora, impressioni, opinioni, sensazioni partiamo dal presupposto che appunto io nei miei video esprimo delle opinioni personali punto primo punto secondo, non sappiamo ancora in questo momento chiaramente la rosa che avrà a disposizione Liverani terzo aspetto, sapete perfettamente che la fiducia da parte mia nei confronti di questa società in questo momento è ai minimi storici pertanto sono tutti elementi che ovviamente possono incidere sulla valutazione che faccio di Liverani tant'è Liverani mi piace come profilo? allora, sicuramente non era tra i miei preferiti perché? perché nella testa di un tifoso come me che spera, auspica, ma soprattutto ha l'obiettivo di tornare in Serie A il prima possibile speravo chiaramente che l'allenatore potesse essere qualcun altro vi ho detto di Andrea Zoli, vi ho detto di Inzaghi i quali, i quali chiedevano garanzie tecniche garanzie tecniche significa di una squadra che potesse veramente sulla carta lottare appunto per essere protagonista in Serie B e per poter fare un campionato quindi volto a raggiungimento dei primi posti che poi potesse essere una, diciamo, conquista della Serie A tramite il primo o il secondo posto quindi maglia diretta o eventualmente playoff quello è un discorso diverso tant'è Liverani sicuramente va in una direzione opposta proprio come dichiarato nella conferenza stampa di ieri dove non si parla di un proclama volto a vedere Cagliari appunto come una società che è in lotta per la Serie A già dal prossimo anno e questo può essere da un certo punto di vista apprezzabile per l'onestà quantomeno ecco per l'idea di smetterla di fare i proclami perché effettivamente da quel punto di vista ci saremmo anche rotti un po' le scatole dei proclami al di là di questo ragazzi Liverani pro e contro allora individuiamo i pro i pro di Liverani chiaramente sono legati al fatto che è un allenatore che comunque conosce la Serie B sicuramente la sua ultima esperienza a Parma non è stata positiva perché a Parma è stato mandato via a metà stagione dopo che aveva ottenuto solo due vittorie però questo può essere chiaramente anche un elemento positivo per la voglia di riscatto per la voglia di ribalza di Liverani punto secondo con il Lecce sicuramente ha fatto le cose migliori perché ha portato il Lecce dalla Serie C alla Serie B e l'anno dopo dalla Serie B alla Serie A quindi un doppio salto che sicuramente testimonia che comunque delle qualità sicuramente non soltanto tecniche ma anche caratteriali, comportamentali proprio a livello di temperamento ce le ha ce le ha perché comunque se no non riesci a portare comunque la tua compagine a questo doppio salto quindi sicuramente elemento molto positivo anche questo e poi il discorso chiaramente del modulo il modulo di Liverani dovrebbe oscillare fra un 433 e un 4312 sono entrambi i moduli che a me piacciono sicuramente il 4312 lo preferisco di gran lunga più che altro perché il 423 mi piace da un punto di vista teorico cioè teoricamente mi piace molto però individuare profili adatti specialmente per quanto riguarda il reparto d'attacco specialmente per quanto riguarda le ali non è semplice non è semplice né nell'individuazione dei titolari presunti ma anche dei sostituti perché poi non dimentichiamoci la stagione di Serie B è una stagione lunga, faticosa e ci sarà veramente bisogno di tutti quindi tu devi comunque creare una rosa che possa essere a livello qualitativo di caratteristiche completa dal primo al ventiquattresimo ventitreesimo insomma quanti giocatori potranno eventualmente far parte della rosa appunto del prossimo anno pertanto non è una scelta semplice quella del 433 però vedremo, vedremo poi chiaramente Liverani per cosa opterà si opterà più per un modulo, più per l'altro o per entrambi questo chiaramente è ancora presto per dirlo però sicuramente questo è un elemento molto positivo più che altro per il fatto che si tornerebbe alla difesa a 4 finalmente, alleluia e a un centrocampo a 3 che è sicuramente la situazione che a livello personale prediligo maggiormente almeno per quello che ho visto chiaramente a Cagliari è proprio per un discorso storico gli elementi contrari l'elemento contrario è il fatto che chiaramente è un allenatore che viene a Cagliari senza delle pretese a livello tecnico quindi non pretenderà dalla società determinati giocatori a livello anche qualitativo eccetera mi auguro che li pretenda sul profilo delle caratteristiche perché ragazzi intendiamoci vale il ragionamento che ho fatto nei precedenti video bisogna assolutamente che il tecnico in questo caso se sarà Liverani venga supportato dalla società quindi che a prescindere dai soldi che potremo chiaramente investire o meno e penso che saranno pochi perché un altro elemento che è venuto fuori dalla conferenza stampa di ieri è che non stiamo messi poi così bene da un punto di vista economico finanziario ma tant'è a prescindere da questo i giocatori devono essere presi in funzione di quelle che sono le idee di calcio e le richieste chiaramente dell'allenatore quindi a livello di funzionalità a livello di caratteristiche mi auguro che Liverani venga ascoltato però è chiaro che lo stesso Liverani non viene a Cagliari appunto con delle pretese particolari e quindi anche con il livello di rosa è indubbio che potrebbe essere in qualche modo creata una rosa buona ma non eccelsa e di conseguenza lì la mano dell'allenatore sarà fondamentale quindi se Liverani sarà bravo magari potrà anche in qualche modo essere in grado di tirar fuori il meglio anche da giocatori che magari di partenza, di base non sono poi così appunto forti sulla carta l'altro elemento negativo è quello che ho citato prima cioè il fatto che comunque nella sua ultima esperienza a Parma dove comunque a Parma si chiedeva in qualche modo di risalire perché diciamo la situazione chiaramente del Parma dell'anno scorso può essere similare a quella del Cagliari del prossimo anno cioè il fatto che appunto era appena retrocessa dalla Serie A pertanto da questo punto di vista Liverani era stato chiamato proprio con questa ottica poi è vero che la società magari gli darà molte meno pressioni rispetto a quelle che poteva avergli dato il Parma l'anno scorso perché ripeto la conferenza stampa dimostra questo però diciamo che questa analogia chiaramente non è ben augurante questo sicuramente e poi ragazzi ripeto a livello di gioco io non ho seguito molto le squadre di Liverani quindi su questo non mi esprimo pertanto diciamo sulla proposta di calcio attendo, attendo il campo perché poi ripeto bisognerà appunto vedere chiaramente il campo quello che io dico e vado in conclusione di questo video è che in ogni caso bisognerà comunque dargli del tempo quindi mi auguro che da questo punto di vista ci sia perlomeno la maturità finalmente di dare comunque del tempo a Liverani perché comunque entrare nella testa dei calciatori una squadra che verrà completamente rifondata che avrà probabilmente appunto 5-6 elementi della passata stagione avrà diversi elementi nuovi della primavera e avrà tanti giocatori nuovi che verranno acquistati e titolo definitivo in prestito non lo so insomma il compito per Liverani sicuramente non sarà per nulla semplice detto questo ragazzi io auguro a Liverani un buon lavoro perché comunque sia al di là di giudizi negativi sulla società che quelli al momento rimangono e rimarranno insomma ci vorrà veramente del tempo nel caso perché io possa cambiare idea però ad ogni modo rimango tifosi del Cagliari tant'è io mi auguro il bene del Cagliari mi auguro che Liverani faccia bene mi auguro che i giocatori che verranno appunto presi che rimarranno facciano bene insomma io mi auguro il bene del Cagliari questo è un elemento che deve essere chiaro perché delle volte nei commenti mi sembra che venga frainteso diciamo il mio video sfogo magari dove critico la società io non vado contro la società a prescindere perché sono stato uno di quelli anzi che in passato l'ha sostenuta l'ha sostenuta quando invece c'erano già persone che la criticavano aspramente io ho detto guardo i fatti guardo quello che vedo in campo guardo quello che vedo a livello chiaramente di scelte societarie per quello che poi succede nel corso del tempo non voglio valutare prima del tempo quindi io sono stato uno di quelli che ha sostenuto la società dicendo ci sta a sbagliare diamo di tempo diamo di fiducia ora dopo otto anni chiaramente mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara pertanto ho un'idea abbastanza convinta però sono il primo ad augurarmi di poter essere in qualche modo smentito lo sapete perfettamente come la penso a me non interessa niente avere ragione eventualmente su un personaggio piuttosto che su un allenatore su un giocatore o quant'altro a me interessa che il Cagliari faccia bene pertanto mi auguro che Liberani possa essere protagonista con il Cagliari prossimo anno di un'ottima stagione e che magari ci possa portare che ne so a dei playoff o addirittura a una risalita in Serie A insomma l'augurio è chiaramente quello queste ragazzi sono le mie valutazioni fatemi sapere le vostre commentando qui sotto nei commenti un bel pollice in su un'iscrizione al canale e noi ci vediamo presto con altri nuovi contenuti un saluto a tutti e ovviamente forza casa di sempre ciao ciao